Ed ora giochiamo, giochiamo duro! Allora, quanto tempo avete speso voi per far fuori questi boss? Allora, no ragazzi, è una classifica che ho visto fare da tante parti, a destra e sinistra, i boss più difficili in assoluto, i boss imbattibili, i boss super segreti, e sono tutte meravigliose, ok? Ma ora, ragazzi, iniziamo a mettere giù quante volte avete provato a fare quei determinati boss, se avete giocato a questi determinati tipi di videogiochi, ok? E in questa classifica, ragazzi, che è molto, molto, molto personale, vi dico in maniera molto schietta e molto sincera che tutti mi hanno fatto il culo più e più volte. Dovrei fare una top 47, probabilmente, con tutti i titoli, tutti i boss che mi hanno fatto il culo a paiolo, ma quest'oggi, ragazzi, iniziamo con alcuni titoli, i più iconici, quelli che indubbiamente mi ricordo di più e che mi hanno fatto soffrire più di tutti gli altri. Oh mio Dio, quante volte li ho fatti questi boss? Non me li ricordo neanche. E voglio sapere voi quante volte li avete fatti. Per cui, iniziamo subito questa top 5 dei boss che più di tutti ci hanno sconfitto. E iniziamo con Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna e voi direte Eh, ma qual è il boss super difficile che hai trovato? Eh, Ultra Necrozma, eh, ragazzi, è proprio lui, è quell'ultra mega boss che comunque, detta papale papale, mi ha fatto sudare moltissimo. Allora, una prima volta ti metti lì, lo vedi, ok, salvi e hai la tua squadra. Dici, ahah, sono imbattibile, ahah, sono fortissimo. No, 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 no. Con Ultra Necrozma non funziona così. Lui è più cattivo, lui sciottatutto, lui, se non avete una squadra ultralivellata, e io non ce l'avevo, beh, vi fa fuori diverse, diverse volte. Tu pensi di fargli il solito attacco che pian piano lo sfianca, ma lui, lui non si sfianca, lui ha le super tecniche, lui ha quelle ultra potenti. E quindi che cosa succede? Niente, mi fa il culo a paiolo e me l'ha fatta diverse volte, ragazzi, in un titolo come Pokémon che non mi ha mai dato una preoccupazione, mai una, in tutta, il suo corso di tutti i capitoli che ho provato nella mia vita, Ultra Necrozma, è stato quello che mi ha fatto soffrire più di tanto. Sono morto più di dieci volte. Più di dieci volte, ragazzi, ho cercato di fare questo boss. Lo so, lo so, sono un nubo. Bene, e adesso entriamo in quei titoli, e ragazzi, ho cercato di metterne solo uno di questi titoli, ma maledizioni, ce ne sono tanti, questi difficili, i souls like, indubbiamente, Niho, ragazzi, è lui il cugino bastardo. Non sarei dovuto ricorrere a Tatarimocche, ok? Per dirvi, eh, guardate che sono morto una bella quindicina di volte per fare questo boss. No, non sarebbe bastato lui, ragazzi. Avrei dovuto mettere tutti i boss che ho incontrato in Niho 2. Ebbene sì, non sono questo gran player, e indubbiamente, ragazzi, per fare mano, capire come si fa un boss, quattro, cinque volte, beh, sono il minimo, sono il cardine, sono l'indispensabile. Ma Tatarimocche, ragazzi, è stato... Quanto è stato difficile? Quanto non era grosso? Bello, spaventoso, pattern, che non so cosa dovevo fare, e la prima volta mi ha shottato. Va bene, dai, la prima volta, va bene così. Sì, la seconda volta neanche un terzo di vita, ma neanche un quarto, per dir tanto. E poi siamo andati avanti così, poi inizia ad arrivare a nuove fasi, poi inizia ad avere pattern sempre più diversi, e quindi, alla fine della fiera, e beh, mollichella, 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 anch'io sono riuscito a batterlo. Sì, ma dopo la quindicesima volta! Ed era difficilissimo! E forse, sì, indubbiamente, non è forse uno dei più difficili in assoluto del mondo di Nioh, ma poco ci manca! E anche per gli altri titoli, ragazzi, che vedremo in questa classifica, beh, ce ne sono di boss che pestano, ma non sono i più difficili! Perché sì, ragazzi, Genichiro di Serico Shadow of Die Twice! Quanto è forte, quanto è potente! La rivincita, ragazzi, su quel maledettissimo boss che ti ha colpito all'improvviso, che arriva, arriva con tutta la sua furia, ti attacca, e tu cosa puoi fare? E beh, niente, niente, niente! Almeno in Nioh avevi tanto loot, e magari potevi ritornare in altre occasioni, magari armato con qualcuno di diverso, ma in Sekiro? No! Devi solo schivare, 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 e indubbiamente, ragazzi, bisogna studiare il pattern dell'avversario, non ti puoi distrarre un secondo! Posso dare la colpa alla nonna, alla zia, al telefono, alla connessione, anche se non è un gioco online, do la colpa ai frame, do la colpa ai bug, ai glitch, ma la vera motivazione è questa, si muove troppo velocemente, è troppo forte, è troppo overpower, e ragazzi, non ho neanche la possibilità di grindare, arrivare ultra preparato, no! Devo per forza vedermi come si affronta, fight dopo fight, mossa dopo mossa, pattern dopo tattern, ragazzi, richiede di mettere in pratica tutte le mie competenze di Sekiro, e non ci sono riuscito, e non ci sono riuscito, per almeno 18 volte! Povera me, povera la mia discendenza! E che dire poi di God of War? Allora, God of War si può giocare in diverse modalità, lo sappiamo benissimo tutti, e io, giuro, l'ho giocato in modalità normale, perché dico, e beh, normale, normale, io sono una persona normale, lo gioco normale, bene, perfetto ragazzi, sappiate una cosa, le sole valichirie che ho liberato, ok? Sono state dei combattimenti impegnativi, cioè le ho fatte 3-4 volte, ok? Per cercare di domarli tutte, e poi alla fine, ecco che arriva lei, si sblocca la regina delle valchirie, Sigran, e ragazzi, è stato uno scontro, che mi ha aperto davvero il culo nei primi 5 minuti, stiamo parlando di una boss fight ragazzi, che si è fatta bene, dura comunque 10 minuti, fatta bene però, io non ero capace a farla bene, per cui il mio fight, quando sono riuscito poi alla fine a sconfiggere, l'è durato all'incirco un quarto d'ora, ok? Ed è stato un incontro, sempre lì, sempre tiratissimo, io ogni volta dovevo stare attento, e maledetto mio figlio, perché non tiri freccia che fanno più male? La regina delle valchirie ragazzi, questo ultra boss segreto, è davvero molto complicato, prima da raggiungere, secondo poi da battere, perché indubbiamente racchiude, un po' tutte le valchirie, che abbiamo un attimino già distrutto, nel corso della nostra epopea, inoltre poi richiede, da parte di Kratos, un determinato tipo di abbigliamento, ok? Quindi ragazzi, bisognava grindare forte, e io ero arrivato impreparato, e ci sono arrivato impreparato, 20 volte, poi ho dovuto vedere come si faceva, e lo stesso anche lì, ho avuto dei problemi, perché appunto, poi, anche se vedi, ma non sei capace, non è che puoi ottenere grandi risultati, e ragazzi, ho continuato, ho perseverato, alla fine ci sono riuscito, oltre la 25esima volta, più punto meno, volta più, volta meno ragazzi, ma indubbiamente, è stato quello che più di tutti, mi ha fatto soffrire, come un cane. Ultimo, ma non ultimo ragazzi, ho lasciato stare i Dark Souls, ho lasciato stare, tutta la serie, ho lasciato stare i Bloodborne, ho lasciato stare, alcuni, mi trovania, che anche lì ragazzi, ne ho da raccontarvi, di titoli, che non sono riuscito a battere, oppure che ho battuto, non lo so, dopo anni, dopo mesi, dopo 400 tentativi, ma devo entrare, essenzialmente, in Hollow Knight, dove c'è ragazzi, Radiance, lui è un altro boss, il finale, il più grande, il più corpulento, e il più difficile, ed è anche il più lungo, in assoluto ragazzi, allora, il quantitativo di pattern, velocità, e abilità, che vi chiede, questo avversario, per essere sconfitto, e esorbitante, io ho già questo titolo ragazzi, ho avuto diverse difficoltà, a farlo, ok, e sono ancora lì, voglio essere sincero, ok, ho imbrogliato, io questo boss, non l'ho ancora finito, non l'ho, sono andato vicino, molte volte, ok, dopodiché, mi hanno fatto incazzare, e ho detto, no basta, ok, giuro, un primo o poi, riuscirò a farcela, un primo o poi, prenderò la mia vendetta, ma il mio counter, è già arrivato, a oltre una buona quindicina, di tentativi, ok, ci tornerò, ma le mie abilità ragazzi, si devono affinare, il pattern di questo maledetto, continuano a shottarmi, ok, o sono ultra livellato, oppure, devo imparare, pezzo dopo pezzo, appunto, a sconfiggerlo, e quanti altri tentativi, mi serviranno ragazzi, ho già detto, me ne ho provato i 15, me ne serviranno altri, 7 e 8 per riprendere la mano, altri 4 magari, per cercare di arrivare, verso la fine della sua vita, insomma, forse, il supereroi 25, no forse, ne sono molto, molto convinto, e poi ragazzi, io l'ho battuto, l'ho battuto, sì, certo, vado a vedere i tuoi achievement di Steam, certo, crede che agli UFO, ragazzi, è stato battuto, da pochissime persone, e anche quelle poche, giuro che avranno bestemmiato, un pochettino, no? dai, ditemelo, quante volte siete morti, almeno voi, datemi una mano, ragazzi, vi prego, fatemi sentire, meno nubbo, di quello che, e meno vergogna, di quella che sto provando adesso, ditemi, su questi boss, quante volte siete morti, vi prego, datemi un contentino, e ditemi che siete morti, più volte di me, ok? E giuro che nella prossima classifica, vi metto tutti i boss, che non ho mai sconfitto, mai sconfitto, mai sconfitto, Dio, quant'è? Una top 49.000, e noi ci vediamo in un prossimo mega video, mi raccomando, like, iscrizione, ciao! Ciao!